A NoStv quest'oggi in primo piano i lavori al Teatro Russolo di Portogruano per la costruzione della nuova galleria. Parleremo poi di un progetto sull'educazione stradale della TVO e poi un'ampia pagina di appuntamenti culturali. Tutto questo e molto altro nel nostro notiziario. Ben ritrovati dalla redazione di NoStv, apriamo il notiziario di oggi occupandoci di lavori pubblici. Andiamo a Portogruaro perché a distanza di dieci anni dall'inaugurazione del Teatro Comunale Luigi Russolo sono iniziati i lavori di realizzazione della nuova galleria che consentirà di avere 178 posti in più. Ma sentiamo i dettagli nel servizio d'apertura. Cantiere aperto al Teatro Comunale Luigi Russolo per la realizzazione di una galleria da 178 posti. L'intervento realizzato dal raggruppamento temporaneo di impresa formato dalla ditta impresa edile Duilio Gazzetta SRL di Venezia e la ditta tramonte elettroimpianti engineering SRL di Campagna Lupia per 250 mila euro prevede non solo la galleria ma anche la realizzazione dei servizi igienici e dei nuovi impianti e la modifica del layout distributivo delle poltrone in platea. In particolare verranno modificati gli spazi per poter allestire la postazione per la regia, ricavare quattro posti riservati alle persone in carrozzina ed aggiungere una fila di 18 poltrone di fronte al palcoscenico. Con questo intervento l'amministrazione comunale conta di dare risposta anche al problema della carenza di spazi pubblici che dopo la trasformazione della sala del caminetto della villa comunale in uffici è molto sentito in città. Sul tema al centro-sinistra ha già protocollato un'interrogazione. E ci spostiamo adesso a Caorle dove ieri il sindaco Luciano Striuli ha consegnato al distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari per l'appunto di Caorle le dotazioni salvavita acquistate grazie alla contributo stanziato dalla Regione Veneto. Il servizio. Stabilizzatori, zaini, torce per illuminazione da impiegare durante gli interventi, oltre al materiale necessario per l'espletamento delle operazioni che possono verificarsi più spesso in un comune balneare come Caorle. Ieri mattina il sindaco Luciano Striuli ha consegnato al capo del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Caorle, Gianni Tamai, l'attrezzatura per la salvaguardia dei pompieri acquistata grazie ad un contributo di 5.000 euro assegnato dalla Regione Veneto. L'aggiunta regionale ha infatti recentemente deliberato un impegno di spesa a favore dei comuni sede di distaccamento del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tra questi comuni rientra anche Caorle che ha assegnato il materiale acquistato incomodato d'uso gratuito ai volontari dei Vigili del Fuoco. Il sindaco in occasione della visita alla caserma intitolata Giorgio Bandiziol ha ringraziato i volontari per l'impegno profuso tutto l'anno per garantire la sicurezza dei cittadini. Cambiamo decisamente pagina. Nell'ambito della Fiera di San Martino di Torre di Mosto domani sera alle 18.30 al Centro Civico sarà inaugurata la mostra d'arte Intrecci dell'Anima organizzata dall'Associazione I Colori della Vita con il patrocinio della Comune. Saranno esposte le opere di due artisti di Torre di Mosto, uno è Giuliano Pavan, padre della scrittrice Irene, di cui per la prima volta saranno visibili le sue opere in una mostra, mentre l'altro artista è Fabio Zanchi, detto il pittor dell'Alivenza. Interverranno alla vernice il tenore Maurizio Bianchin e l'artista Monia Ferrazzo. La mostra sarà visibile negli orari delle manifestazioni della fiera. E sempre nell'ambito dei festeggiamenti della Fiera di San Martino a Torre di Mosto, domenica in programma la nona edizione della Centomiglia della Torre, raduno di auto storiche, sportive ed ex rally organizzato dall'Alivenza Jolly Club. La manifestazione avrà la sua partenza e l'arrivo a Torre di Mosto in Piazza Indipendenza, novità di questa edizione che a partire dalle 8 del mattino si terrà in piazza l'esposizione delle auto con due ospiti di eccezione, Rocco Kamala, pilota di rally negli anni 80 e 90, e Johnny Cecotto, due volte campione del mondo in sella alla Yamaha e passato poi alla Formula 1. Alle 10.30 è previsto lo start con la partenza della prima vettura, un circuito che impegnerà i partecipanti per tutta la giornata, con tappe a Cacorniani, Concordia Sagittaria, Porto Gruaro, Oderzo e Sanstino. Arrivo e premiazioni verso le 18, sempre a Torre di Mosto. E l'educazione stradale entra anche nelle scuole dell'infanzia, grazie al nuovo progetto avviato da Atvo, l'azienda trasporti veneto orientale. Si tratta di un'estensione del primo progetto già avviato con le scuole medie ed elementari, ma sentiamo i dettagli nel servizio. L'educazione stradale ora entra nella scuola dell'infanzia. Dopo aver coinvolto gli alunni delle scuole elementari e medie del Veneto orientale attraverso del materiale informativo apposito, ora Atvo, l'azienda trasporti veneto orientale, ha deciso di ampliare il progetto coinvolgendo le scuole dell'infanzia dello stesso territorio. Ed ecco allora a nascere Pilotino e le regole della strada. Si tratta di un libricino di 12 pagine dove vengono spiegate con il linguaggio delle favole, ma anche dei disegni, alcuni da colorare, le regole più importanti da rispettare quando si va per strada, anche a piedi o in bicicletta. Il materiale verrà distribuito in tutte le scuole dell'infanzia del Veneto orientale e caderiranno all'iniziativa. Il progetto Pilotino e le regole della strada si propone di perseguire alcuni obiettivi, quali conoscere il valore simbolico della diversa segnaletica stradale, comprendere le regole per un corretto uso dell'ambiente circostante, capire l'importanza di stabilire e rispettare delle regole comuni per vivere insieme, comprendere chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti, nonché seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità. Tra i soggetti che hanno collaborato al progetto ha anche Chiara Sniaoline, insegnante di scuola dell'infanzia statale, e Silvia Greggio, assistente della polizia locale di San Dona di Piave. Siamo sempre più convinti, commenta il presidente di Attovo Fabio Turchetto, che un buon cittadino anche nei comportamenti corretti da tenere in strada lo si diventa attraverso una mirata educazione civica, partendo dai più piccoli. Negli anni abbiamo avuto ottimi riscronti sia con il concorso avviato nelle scuole, compresi gli istituti superiori, che con il progetto di educazione stradale. Dobbiamo insistere su questa direzione, conclude Turchetto. Sabato 18 ottobre, presso la sala consigliare del municipio di San Stino di Livenza, alle 17, con la promozione e il patrocinio dell'amministrazione comunale, verrà presentato dallo stesso autore Carlo Rongo il romanzo Non era neanche il mio tipo. Si tratta dell'esordio letterario di uno scrittore sanstinese, la cui passione letteraria è comunque di lunga data, sin da suoi inesauribili studi su Prusta. Non era neanche il mio tipo apparentemente il racconto di un dramma sentimentale, ma si rivela in realtà come un'opera dallo stile raffinatissimo, fluttuante tra ironia ed introspezione, in una cornice che è quella della tradizione antropologica, sociale e culturale che appartiene al nostro paesaggio. Con questa iniziativa, dichiara l'assessore alla cultura Rita Fanton, abbiamo voluto dare rilievo e valorizzare un'eccellenza del nostro comune, questa volta in campo letterario. Io credo infatti, prosegue l'assessore Fanton, che sia motivo d'orgoglio per l'intera comunità poter annoverare tra i suoi appartenenti persone come Carlo Longo, accrescendo quel prestigio di cui l'è già stato fatto dono con Romano Pascutto, Antonio Boatto, Biagio Pancino. Per questo, conclude l'assessore, contiamo su una partecipazione attenta e numerosa. E questa era anche la nostra ultima notizia, vi ringraziamo di essere stati con noi e vi ricordiamo che il nostro TV è disponibile su Facebook, YouTube e Instagram e sul canale Il13TV, disponibile sul tasto 13 o 605 del vostro telecomando. Dalla redazione di NostiV, un grazie per l'ascolto e un arrivederci alle prossime edizioni. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori.